Onorevole Spadoni, prego. Grazie, Presidente. Ieri ho fatto un intervento e vorrei specificare meglio il mio pensiero. Ieri ho chiesto l'iter per sottoscrivere un emendamento, in quanto non si capiva esattamente l'iter, visto che non avevamo più i tempi per poter parlare. La Presidente Sereni non ci ha concesso il tempo aggiuntivo. La Presidente Sereni ha costantemente bloccato gli interventi del gruppo del Movimento 5 Stelle, non permettendo al gruppo di poter esprimere la propria opinione. E, dulce sin fundo, la Presidente Sereni non ha permesso ad alcuni colleghi, tra cui la sottoscritta, di poter votare, dato che ci avevano dato un iter per riuscire a sottoscrivere o a togliere le firme a un emendamento e la Presidente Sereni ha deciso di chiudere la votazione. Ora, la maggioranza non deve essere un ventricolo pronto a trangugiare l'opposizione, né un pugno per strangolare, né un piede per schiacciare. Onorevole Brescia.